Onorevole De Castro, a che punto siamo con l'approvazione della nuova PAC? Intanto diciamo che la nuova Commissione Agricoltura, formata per di più da nuovi deputati, il 60% dei deputati della Commissione Agricoltura attuale sono tutti nuovi deputati. E questo ci ha spinto a riaprire i dossier che abbiamo approvato ad aprile in modo da poter intervenire su alcuni, non su tutto, ma su alcuni articoli che avevano segnalato un po' di preoccupazioni, uno su tutti o questa deriva di rinazionalizzazione che non ci piace. Per cui la riapertura comporterà nuovi emendamenti, nuovi compromessi, arriveremo a una posizione della Commissione Agricoltura non prima della primavera prossima. Dopodiché approveremo in Commissione, andremo in aula in modo che entro l'estate, entro settembre, avremo l'inizio dei triloghi. Però nessuna preoccupazione per gli agricoltori perché con il regolamento transitorio che è già partito, noi prorogheremo l'attuale PAC, quindi le stesse regole che abbiamo oggi, per almeno due anni. E l'ortofrutta italiana accoglie appieno le opportunità che dà l'Europa? Beh, purtroppo il livello organizzativo dell'ortofrutti cultura italiana, come è noto, non è ancora a livelli olandesi, ma anche spagnoli. Quindi abbiamo una grossa quota di ortofrutta che non passa attraverso le OP, non passa attraverso le strutture organizzative e questo impedisce di portare a casa quelle risorse che l'Europa in realtà ha a bilancio. Come è noto, l'Ocm ortofrutta funziona in quota del fatturato commercializzato dall'OP, quindi se non sei all'interno di un sistema organizzato non puoi accedere alle agevolazioni comunitarie. Invece a che punto è il recepimento della direttiva sulle pratiche sleali? In un punto di svolta importante, pochi giorni fa insieme con la ministra Teresa Bellanova ci siamo incontrati a Roma, abbiamo dato un'accelerazione, un'accelerazione che è necessaria con questo cambio di governo, abbiamo parlato con il sottosegretario Agea, quindi è al primo punto dell'ordine del giorno della prossima legge comunitaria di recepimento, per cui io mi auguro davvero che in tempi molto brevi si possa finalmente recepire in Italia il lavoro fatto a Bruxelles sulla direttiva.